Ed ecco per finire l'ultimo tocco all'insalata Ma che precisione ragazzi Chi non vorrebbe un cuoco così a casa propria? Salsina di yogurt con olio, sale, pepe e semi di finocchietti tritati Guardate, incredibile la precisione Pronta da condire Ok Un tornata con pettine di arancio, buccia di limone e buccia di arancio E il piatto è pronto Cotto e mangiato L'altro cuoco L'altro cosa dice? Cosa dice? Vediamo La sua insalata di pomodori e peperoni Le cipolle niente La cipolla La cipolla la mettiamo, la cipolla rossa Non può non mancare nell'insalata Lei invece cosa dice? Pronto da mangiare? Sì è pronto O cotto e mangiato? Mangiato e posto Bene Guardate anche lui la precisione Che manualità Con le sue mani piccole Ed ecco l'ultimo tocco Con la fetta di limone Guardate Il primo piano Penultimo tocco Penultimo, sbagliato Il cuoco mi corregge Perché ora aggiunge Delle olive nere Delle olive nere Se sono taggiate Meglio ancora Ecco Sentite il cuoco Il consiglio Guardate Il primo piano Guardate che Il piatto favoloso Chi sarà Il fortunato A mangiare Questo piatto Lo scopriremo Solo più tardi Guardate Il cuoco Che si porta sempre Anche il coltello Sardo Guardate che roba Il coltello Della precisione Guardate che bello E voilà Qua finisce la nostra Ripresa Del piatto Speciale di oggi Vogliamo ripetere Il cuoco Cosa che è Questo piatto In due parole Insalata di finocchio Con arancio Ecco E voilà Bene Buon appetito